Letterius con la sua grande esperienza trova la soluzione al tuo caso anche se è il più complicato riceve nelle principali città d'italia anche all'estero il maestro Letterius è in grado di ridarti ciò che tu desideri ciò che ti hanno strappato non perdere tempo cambia il tuo destino ti aiuta con grande serietà a svelare tutti i dubbi della tua vita in amore nel lavoro nel benessere ha ricevuto le più alte onoreficenze anni di predizioni precise e controllabili attraverso lettere viene consultato da personalità internazionali la sua sicurezza potrebbe attirare nuovi ammiratori o aiutarti a riconquistare un amore perduto la ritrovata gioia di vivere con l'aiuto di Letterius ti renderà vincente in ogni campo puoi parlare personalmente con lui 335 65 92 908 ti gli appuntamenti sono riservati prova a chiamare il maestro Letterius parlane e troverai la via da seguire altre persone lo hanno fatto e hanno ritrovato la serenità e il benessere massima riservatezza e serietà nei suoi consulti puoi fissare un appuntamento più vicino alla tua città il maestro Letterius si sposta in tutta italia e all'estero anche a domicilio Letterius operatore dell'occulto sensitivo pranoterapeuta professionista dell'alta magia è studioso di parapsicologia è ricercatore di fenomeni occulti è collaboratore di note riviste mensile di politica turismo ed arte è uno dei pochi professionisti in italia che si distinguono per la grande preparazione è divulgatore della pace nel mondo individua subito la presenza di malefici di malocchio di fatture di negatività in ambienti e persone il maestro Letterius ti darà la felicità perduta e la gioia di vivere porterà la serenità nella tua casa distruggendo per sempre il male è un po' di tempo che tuo figlio è cambiato è nervoso si ribella Letterius può aiutarlo a trovare la tranquillità e il successo affidati alla grande forza che è dentro di lui tramandata dal padre dal nonno e dal suo bisnonno l'amore per il prossimo le arti divinatorie l'energia sulle mani sono doti che si possiedono naturalmente e che si rafforzano con lo studio e l'esperienza proprio